Un momento anche di conoscenza delle problematiche legate alla legalità sul territorio e in particolare al fenomeno del caporalato. Ma sì, oggi con questo momento di confronto con la DIA, con i vertici della DIA, della Procura di Foggia, della Procura Distrettuale Antimafia di Bari, si è fatto il punto della situazione su un tema specifico, ma noi qui a Foggia stiamo anche potenziando, provando a dare una sede ad alcuni uffici della Direzione Distrettuale Antimafia con l'Università degli Studi di Foggia. Questo è un momento in cui c'è bisogno di una sinergia massima tra le istituzioni per sconfiggere il fenomeno mafioso che ha fatto troppo male a questo territorio. E oggi questo territorio vuole alzare la testa e facendo sinergia tra la parte migliore del territorio e con la squadra Stato distruggere la mafia.